Buongiorno a tutte, io sono Donatella e come le mie colleghe ostetriche lavoro in questa unità operativa. In questo breve video vi parlo della rottura delle membrane. Allora innanzitutto cos'è la rottura delle membrane? Allora la rottura delle membrane che comunemente viene anche chiamata rottura delle acque si manifesta con una perdita di liquido dai genitali, liquido che solitamente è in odore e in colore. Questa perdita può essere, questo scuolo di liquido può essere abbondante oppure anche scarso. In questo secondo caso cosa succede? Che nel tempo, nelle varie ore si vede lo slip umido perché poche gocce di liquido continuano comunque a scendere dai genitali. In questo caso è consigliato mettere un panno di stoffa al posto dell'assorbente possibilmente chiaro, quindi bianco insomma, per poter valutare nel tempo il liquido e le caratteristiche del liquido che scende, sia la quantità e sia il colore. Se pensate di aver rotto le membrane, cosa si deve fare? Inizialmente si deve fare attenzione all'orario in cui si è visto anche valutare il colore della perdita. Il liquido nella norma è di un colore trasparente o rosato. Allora se vedete uno scuolo di liquido trasparente e rosato e avete i tamponi, il tampone vaginorettale negativo per streptococco. Non c'è fretta di correre in ospedale in quanto per le 24-36 ore successive alla rottura delle membrane si cerca di attendere la comparsa spontanea delle contrazioni e quindi del travaglio. In questo caso la terapia antibiotica viene iniziata dopo 12 ore da quando voi avete visualizzato a casa al primo scuolo di liquido e quindi potete anche recarvi in ospedale appunto 10-12 ore dopo la rottura delle membrane. Se invece il liquido che scende è sempre trasparente o rosato quindi normale ma il tampone vaginorettale è positivo, in questo caso la terapia antibiotica viene iniziata subito al vostro arrivo in ospedale e il travaglio viene indotto con le tecniche mediche oppure farmacologiche. Quindi in questo caso appunto è consigliato l'arrivo in ospedale nel breve termine insomma per poter iniziare sia l'induzione del travaglio e sia la terapia antibiotica. Nel caso invece di liquido tinto, allora il liquido che diciamo risulta può essere insomma di tonalità come queste quindi una tonalità più gialla verdognola è un liquido da tenere sotto controllo e quindi in questo caso vi si chiede di venire in ospedale subito quando vedete lo scuolo di questo liquido di questo colore. In ogni caso c'è da fare molta attenzione quando rompete le acque alla percezione dei movimenti del bambino in quanto i movimenti del bambino sono sempre indice di benessere del bambino quindi se voi a casa vedete che avete rotto le acque mi raccomando di fare sempre attenzione di percepire i movimenti fetali che devono essere comunque minimo 10 in 12 ore.